Il 28 e il 29 aprile torna l'autoslalom a Villanova Monteleone con la seconda edizione del trofeo del Villanova. La gara è organizzata dal team Alghero Corse in collaborazione con il Villanova Monteleone Karting, con il team Villanova Corse, con il supporto dei comuni di Villanova Monteleone, Monteleone Roccadoria, Romana, Padria, Mara e dell'associazione turistica a proloco Villanova Monteleone. Lo scorso 20 aprile siamo stati alla conferenza stampa di presentazione dell'autoslalom tenutasi a Villanova Monteleone. Abbiamo intervistato il sindaco e il presidente della proloco di Villanova Monteleone. Il secondo torneo del Villanova che appunto si sviluppa lungo la Villanova Monteleone Monteleone Roccadoria in poco più di 4 chilometri, quindi i piloti si danno appuntamento per andare a confrontarsi in questo percorso che al di là potrebbe essere anche classificato non particolarmente impegnativo ma inserito comunque in uno scenario se vogliamo molto interessante da un punto di vista soprattutto paesaggistico. Per Villanova e per l'intero territorio dell'Unione del Villanova è cosa importante perché rappresenta sempre un momento di promozione di queste terre, di queste aree e insieme alle terre, alle aree, anche alle emergenze ambientali, alle emergenze archeologiche e anche poi delle genti che abitano questi territori. Ci sono molti appassionati anche qua a Villanova Monteleone e nei comuni circostanti e quindi noi pensiamo che come lo scorso anno anche quest'anno possa esserci un successo importante di questa bella gara. Come sapete si svolgerà tra sabato e domenica il secondo trofeo del Villanova, una manifestazione che quest'anno è impreziosita dal fatto che si partecipa al campionato regionale e il percorso è stato allungato rispetto all'anno scorso di un chilometro. La manifestazione si svolge in un posto magico nella vallata che da Villanova porta al Lago del Temo e al Monte Minerva. Quindi oltre allo spettacolo dei motori, alla musica che i motori emaneranno in quei giorni si potrà ammirare un paesaggio fantastico, ricco di emergenze archeologiche, dal punto di vista ambientale molto bello e rinomato. Noi vi invitiamo tutti ad essere presenti. Credo che i colleghi abbiano parlato molto degli aspetti sportivi della manifestazione. A noi interessa soprattutto quello della promozione del territorio, del fatto che vogliamo che a Villanova arrivi in quella occasione un po' di gente, perché ci interessa che venga in qualche modo conosciuta e vista a livello anche regionale. Vi aspettiamo il 28 e il 29 di aprile. Il 28 aprile ci saranno le prove sportive e tecniche, mentre il giorno della gara, che vi aspettiamo davvero molto, molto numerosi, il 29 aprile dalla mattina a Villanova-Monteleone. E' qui con me Fedele Carboni, che è presidente dell'associazione WM Karting di Villanova, che con la Proloco partecipa all'organizzazione di questa manifestazione. L'altra associazione motoristica di Villanova, purtroppo oggi il presidente Raimondo Palomba, non è presente, è il team Villanova-Corse. Anche noi come associazione motoristica, in questo caso dei Kart, una branca importante dei motori, siamo lieti di dare un buon contributo a questa bella manifestazione, a questa importante gara, che a noi ci dà molta visibilità. E quindi è importante questa nostra partecipazione, anche a livello territoriale, per far conoscere comunque il territorio di Villanova e queste gare, soprattutto l'impegno sportivo che ci mettiamo al resto delle persone. E ci farà molto piacere che ci sia una bella partecipazione. Ora sentiamo il presidente e il vice del team Alghero-Corse. Siamo qui per il secondo anno consecutivo, per organizzare appunto la manifestazione del Villanova, che diventerà per il prossimo anno trofeo, grazie al supporto che ci dà la federazione, ed avremo anche l'osservatore appunto per questa manifestazione, perché oltretutto è stata allungata di un chilometro. Siamo qui per organizzare nuovamente questa manifestazione, che l'anno scorso ha avuto un successo immenso, e vorrei ricordare a tutti gli sportivi che questa gara appartiene al campionato regionale, che da quest'anno 2018 è ritornata in AUG, dopo il lontano 2013, grazie appunto alle sollicitazioni del team Alghero-Corse alla federazione. Perciò le due gare di campionato, quali il Villanova-Monteleone e l'Alghero-Scala-Picada-Slalom, fanno parte del campionato regionale automobilistico, sperando di poter portare numerosi piloti a queste manifestazioni, e di avere sempre del tempo come questo giorno, meraviglioso. Io vi auguro a tutti comunque un buonissimo campionato, e una buonissima riuscita a tutti gli organizzatori, per poter far sì che queste manifestazioni abbiano sempre un successo. Grazie a tutti. Considerato il successo dell'anno scorso, vogliamo portare, anzi abbiamo richiesto noi alla nostra federazione, all'Acci Sport, che questa gara venga inserita nel calendario delle gare nazionali. Pertanto abbiamo messo ad impegno tutto quanto, e grazie al sindaco di Villanova che ha creduto in noi, al presidente della Proloco di Villanova, a tutta la popolazione, al comandante di vigili urbani, al comandante dei carabinieri di Villanova, ringraziamo la VM Karting di Villanova, e il team Villanova Corse di Villanova. Pertanto chiediamo a tutta la popolazione di essere presente in numerosa la gara, di sostenerci, il pubblico sostenerci in questa manifestazione, e chiediamo a tutti i piloti di essere numerosi, di venire numerosi e dare lustro a questa gara, a questo percorso che se lo merita. Ringraziamo tutti i commissari di percorso, tutte le autorità, tutti quanti, tutti, senza dimenticarne uno. Grazie.